bentornato cutie bentornata ora è il momento di iniziare a utilizzare windows 10 andiamo a vedere il desktop come si presenta quando hai avviato il sistema operativo subito si presenta la nuova schermata di windows 10 il desktop con una bellissima immagine di una finestra che richiama il marchio della microsoft con dei raggi luminosi diffusi in altra a sinistra trovi l'icona del cestino che potrai spostare oppure personalizzare a tuo piacere la sistrei sempre in basso a destra con varie icone come alcune applicazioni connessione di rete centro operativo notifiche volume data ed ora ed eventualmente altre icone che già ben conosci in basso troverai la barra delle applicazioni personalizzabile con alcune ricorrenze e delle novità già conosciute sono l'icone per i browser che in questo caso si chiama edge poi troverai anche esplora file e il collegamento allo store della microsoft il desktop è simile ai precedenti sistemi operativi e quindi se non lo hai fatto puoi consultare le lezioni dalla 59 alla 65 e i rispettivi video tutorial per windows 7 per windows 8.1 invece puoi visionare la lezione 144 ed il suo video tutorial le differenze con i precedenti sistemi operativi sono innanzitutto il ritorno del pulsante e relativo menu start in basso a sinistra questa è la nota se vogliamo più importante il menu presente nel tasto start contiene i link e i collegamenti alle varie applicazioni alla sezione impostazioni alla gestione dell'account udente e l'alimentazione del sistema per poter spegnere e riavviare il sistema operativo contiene anche un'area personalizzabile che richiama le piastrelle conosciute già in windows 8 accanto al tasto start alcune icone che conosci di applicazioni come già detto e qualcosa di nuovo una lunga barra di ricerca la fa da padrona che è collegata alla novità dell'assistente vocale chiamata cortana la casella di ricerca ti consente di ottenere risultati da applicazioni impostazioni dallo store della microsoft dei file presenti nel pc oppure direttamente dal web l'interazione potrà essere digitale e anche vocale proprio grazie all'assistente virtuale chiamata cortana accanto trovi il pulsante visualizzazione attività se ad esempio hai aperto diverse applicazioni cliccando su questo pulsante tutte le finestre delle applicazioni si ridurranno in dimensioni e si affiancheranno l'un l'altro così come in questo screenshot potrai così passare dall'una all'altra cliccando semplicemente sulla finestra cliccando invece di nuovo sul pulsante visualizzazione attività annullerai la visualizzazione ridotta per tutte le finestre sempre con visualizzazione attività inserita noterai in basso a destra un pulsante con il simbolo più chiamato nuovo desktop sono i desktop virtuali di windows 10 per migliorare la gestione delle finestre puoi creare dei desktop alternativi nei quali potrai spostare le finestre aperte quindi l'applicazione aperte suddividendole magari per categorie e passare dall'una all'altra con semplicità per evitare un ingorgo di applicazioni aperte una volta creati i desktop potrai anche eliminarli cliccando con la classica x in alto a destra e tutte le finestre torneranno in un'unica visualizzazione totale senza perdere nulla del lavoro che è svolto fino a quel momento con la visualizzazione multitasking con diverse finestre attive puoi trasformare il desktop in una visualizzazione a finestre scorrevole come già accadeva in windows 8.1 trascina una finestra che hai aperto verso il lato e lo schermo si dividerà in due la finestra trascinata occuperà metà schermo mentre le altre si spartiranno l'altra metà potrai gestire la loro dimensione a tuo piacere riducendo anche quella che occupava metà schermo facendo scorrere il bordo condiviso tra le due sezioni o a destra o a sinistra per ulteriori informazioni generiche su windows 10 puoi consultare la sezione didattica in testo e video chiamata informazioni di base che si trova all'interno del menu start e cliccando prima su tutte le applicazioni per esplorare la gamma delle applicazioni attualmente installate tra cui appunto informazioni di base bene guter vediamo adesso la parte pratica questo è il nuovo desktop di windows 10 come si presenta subito dopo l'installazione in alto a sinistra trovi l'icona del cestino che puoi personalizzare rinominare oppure spostare a tuo piacere in basso a destra trovi la sistrei più o meno simile a quella che conoscevi nei precedenti sistemi operativi con varie icone connessione di rete l'accesso alla parte audio le notifiche del sistema operativo altre icone nascoste di programmi installati e la sezione narrativa ad ora e calendario cliccando con il destro si apriranno dei menu che ti permetteranno di interagire con il dato programma o la specifica sezione poi in basso trovi la barra delle applicazioni con alcune icone che conosci ed alcune novità il nuovo browser che si chiama microsoft edge il link per aprire il programma esplorafai e quello dell'icona dello store della macrosot e poi ci sono dei programmi che man mano aprirai poi trovi il ritorno del pulsante start che ti permette di accedere a una sezione personalizzabile che poi in seguito spiegheremo e subito per darti delle indicazioni cliccando sul pulsante tutte le applicazioni puoi scorrere fino a trovare la scritta impostazioni di base e cliccandoci sopra si aprirà una guida che ti potrà dare indicazioni di massima su quello che è e sarà windows 10 tramite delle spiegazioni scritte oppure tramite dei video poi tornando all'aspetto desktop trovi una lunga barra di ricerca che ti permetterà di inserire alcuni parametri di ricerca digitate oppure tramite l'assistente vocale cortana spiegazioni che daremo più avanti nel percorso e trovi il pulsante visualizzazione attività cliccandoci sopra tutti i programmi aperti si ridurranno in dimensioni ed aspetto e si presenteranno alla tua visione ed eventualmente aprendo un nuovo programma si andrà ad inserire nella lista dei programmi aperti e quindi tramite visualizzazione attività potrai decidere di passare all'uno o l'altro programma semplicemente con un clic inoltre potrai creare dei desktop virtuali cliccando sul pulsante in basso a destra nuovo desktop si apriranno un certo numero di desktop e tu potrai passare tra un desktop e l'altro semplicemente cliccando sull'icona relativa potrai anche inserire i programmi aperti all'interno di un desktop per ottimizzare la visualizzazione grafica del lavoro che stai eseguendo per non riempire di troppe finestre appunto il tuo desktop e passare dall'uno all'altro con semplicità in modo da agevolare il tuo lavoro come vedi è possibile passare con dei semplici clic tra un desktop e l'altro nel momento in cui vai a chiudere i desktop precedentemente creati tutto tornerà alla normalità e quindi non avrai perso alcunché del lavoro precedentemente svolto tutti i programmi rimarranno naturalmente aperti altra possibilità è la gestione del multitasking se hai aperto diversi programmi sarà sufficiente tenere premuto il pulsante sinistro del mouse su un programma spostarti da un lato verso sinistra o verso destra ad un certo punto noterai una grafica leggermente diversa a rilascio lo schermo sarà suddiviso in due sezioni in uno troverai aperta un'unica finestra quella che avrai in gestione e l'altra sezione sarà suddivisa dalle altre applicazioni cliccando su l'una o l'altra avrai la visualizzazione a mezzo schermo potrai gestire la visualizzazione dell'una o l'altra finestra semplicemente cliccando nella zona di condivisione tra i due schermi e quindi adattare ad una visuale che più ti piace la gestione del desktop potrai anche ridimensionarle in base alle tue necessità facendo un pochino di giochi con i bordi delle rispettive finestre cliccando sul pulsante di massimizzazione ovviamente o di riduzione ad icona come già ben sai poi gestire a tuo meglio queste finestre come vedi il desktop di windows 10 aspetti già conosciuti ed aspetti nuovi garantendo una massima versatilità per l'utilizzo che ne farai del tuo sistema operativo bene nella prossima lezione ti parlerò del menu e del tasto start ora un forte saluto ciao a presto da gallo e ciao a presto